Assisi Loreto a cavallo. Da lunedì scorso la via Lauretana, il sentiero che collega da secoli Roma e Loreto, è attraversato da 21 pellegrini partiti dal paese di San Francesco alla volta della città mariana. Un pellegrinaggio che raggiungerà la meta domani, sabato 7 settembre, e che per una settimana ha offerto ai 21 pellegrini la visita di monumenti, basiliche e la vista di panorami mozzafiato. Alle 15 di ieri i pellegrini con i loro cavalli hanno fatto tappa a Tolentino. Dopo aver attraversato il Ponte del Diavolo si sono fermati nel Foro Boario ed hanno approfittato per visitare la Basilica di San Nicola. La sera il corteo notturno è ripartito passando nel centro storico della città e in Piazza della Libertà.